La Val Polcevera e la Val Scrivia come la Val Susa, scontri notave, forze dell'ordine, lacrimogeni, manganelli, lancio di pietre. Oggi al cantiere del terzo valico ferroviario al confine fra Liguria e Piemonte. Cinque contusi e un manifestante di 68 anni ferito leggermente. In 2000, contrari alla realizzazione del terzo valico, hanno marciato da Arquata Scrivia fino al cantiere. Dietro lo striscione, riprendiamoci la nostra terra, comitati di cittadini residenti in Val Scrivia e in Val Polcevera, esponenti notave di Liguria e Piemonte, giovani dei centri sociali. Tra i politici il segretario di rifondazione Paolo Ferrero, piemontese, e di Liguri Antonio Bruno e Stefano Sarti, rispettivamente consigliere comunale di Genova e candidato nella lista Zipras. La tensione era nell'aria ed esplosa quando alcuni attivisti hanno abbattuto le recinzioni metalliche armate di tenaglie e flessibili e hanno invaso l'area off-limits. Carabiniere e poliziotti in assetto antisommossa hanno respinto i manifestanti. Da una parte sono partiti lacrimogeni, dall'altra pietre, bastoni e bottiglie di plastica. Entro l'estate, come ha dichiarato il commissario per il governo, Walter Lupi, si rifinanzierà l'opera per proseguire i lavori. La talpa che inizierà gli scavi per il tunnel di Valico arriverà nel giro di poche settimane.